buonasera tu le monde buonasera amici come vedete stasera sono già in vestaglia perché a me a casa piace stare rilassata e calda il solito preambolo viene fatto perché voi intanto possiate collegarvi intanto facebook mi sta ricordando che la mia connessione è debole e intanto che appunto salite di numero io vado avanti con il preambolo così che insomma vi raduniate in massa per ascoltare la lettura di un testo di una canzone che amo molto e che tra l'altro è stata scritta da degli autori degli artisti che amo molto c'è lo zampino di lucio d'alla in questa canzone c'è lo zampino di giuseppe d'onghia in questa canzone soprattutto poi c'è lo zampino anzi lo zampone di samuele bersani che appunto portò questa canzone a un successo grandissimo io adoro questa canzone dal titolo spacca cuore e immagino l'adorino anche molti di voi perché del resto è una canzone che ci portiamo dietro e io mi ricordo quando ero piccolina di aver visto samuele bersani forse annonella rai che con questo gesto spara 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 dritto qui insomma rimase nel cervello di molte ragazzine dell'epoca che adesso poi saranno magari delle signore e intanto che siete già in sedice mi sembra un buon numero colgo l'occasione per salutare paolo giorgi tolu daniele la federica porcu giuseppe nicodemo e vi ringrazio per essere qui fedeli a questo appuntamento a questo appuntamento che andrà avanti perché so già che mi diverti a tal punto che probabilmente leggerò un sacco di testi a chi mi chiedeva di leggere qualcosa di lucio d'alla beh lo accontento per una porzione perché il testo ripeto di questa canzone è stato in parte scritto anche da lucio d'alla insieme a samuele ma passiamo alla lettura di questo testo spengo la tv e la farfalla appesa cade giù a succede anche a me è uno dei miei limiti io per un niente vado giù se ci penso mi dai brividi me lo dicevi anche tu dicevi tu ti ho mandata via sento l'odore della città non faccio niente resto chiuso qua ecco un altro dei miei limiti io non sapevo dirti che solo a pensarti mi dai brividi anche a uno stronzo come me come me ma non pensarmi più ti ho detto di mirare l'amore spacca il cuore spara 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 amore tu non non pensarci più che cosa vuoi aspettare l'amore spacca il cuore spara 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 dritto qui so chi sono io qui mi viene da ridere perché sul chi so chi sono io non lo so se lucio o samuele lo sapessero davvero chi erano comunque so chi sono io anche se non ho letto freud so come sono fatto io ma non riesco a sciogliermi ed è per questo che sono qui e tu lontana dei chilometri che dormirai con chissà chi adesso lì ma non pensarmi più ti ho detto di mirare l'amore spacca il cuore spara 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 amore ma non pensarmi più che cosa vuoi aspettare l'amore spacca il cuore spara 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 dritto qui sono anche morta sul finale per rendere teatralmente la versione di questa splendida canzone nel frattempo facebook mi ricorda che la connessione è debole ad ogni modo ad ogni modo davide minosa dice non commento perché sei un fan anche tu di samuele oppure non si può commentare perché mi è venuto da ridere a un certo punto ma perché mi è venuto da ridere proprio nella nella frase sul più bello su questa frase epica della canzone cioè so chi sono io anche se non ho letto freud questa è una frase che ci siamo stampati nelle cervella tutti quanti oppure sbaglio intanto andrea ravaioli dice brava recitate fanno tutto un altro effetto effettivamente mi diverte fare questo esperimento perché senza la musica le parole ci aprono a mondi differenti diversi mentre con la musica ci aprono ad altri mondi ancora quindi è bello passare appunto da una versione all'altra per rendersi conto dell'effetto che ci fa ma perché perché noi non siamo altro che dei divoratori assetati di emozioni io mi ci metto quindi trovare delle formule che ci possono aprire ad emozioni o a riflessioni diverse penso che ci diverta un po tutti cari amici vi leggo qualche frase vostra visto che riesco a leggere quel che scrivete e grazie insomma ringrazio stefano pace per il pollice alzato che è un complimento davide minosa dice mi hai fatto un bel regalo dato che riesco in questo momento a riascoltarla dopo cinque anni cioè riesci in che senso davide cioè riesce ad ascoltarla perché non la trovavi a a ok ok intanto risaluto andrea ravaioli e stasera appunto la il caffè letterario ahimè per voi si conclude qui anche per me si conclude qui ma sappiate che al solito se volete suggerirmi dei testi di canzoni che vi piacerebbe io leggessi per voi fatelo perché lo farò davvero con molto molto piacere e ripeto questo è un annuncio per i cantatori cantautori se alcuni cantautori o cantautrici vorranno che io legga i loro testi i loro testi di canzoni mi contattino in privato anche nei commenti qui sotto così io magari potrò soddisfare la loro richiesta dato che per me è un immenso divertimento fare questa cosa veramente mia mi appassiona e mi diverte e tra l'altro mi fa riscoprire i brani sotto una luce diversa e il mio intento è sperare che questa luce diversa arrivi anche a voi ripeto che non mi preparo la lettura dei brani ma cerco di affrontare il test in modo spontaneo così che ci sia una sorpresa anche per me nella lettura anche se alcuni di questi testi bene o male li conosco li conosco bene altri invece meno però l'esperimento è proprio questo davanti a un testo senza esserselo preparato senza essersi preparato appunto nella declamazione io vado dritto e come dice samuele sparo sparo dritto al punto quindi ragazzi ricordate bene io so chi sono io anche se non ho letto freud tra parentesi un pochino in realtà l'ho letto anche perché del resto avendo fatto filosofia all'università di bologna alma mater studiorum freud scappava fuori da tutte le parti da tutti i cassetti c'era sempre un riferimento a freud sempre studiavi heidegger spuntava fuori freud studiavi kirchgaard spuntava fuori freud studiavi marx spuntava fuori freud quindi insomma io so chi sono io anche se ho letto un po freud buonanotte vi voglio bene al prossimo caffè letterario e sarà il numero